Continuano i casi covid nelle scuole del Vallo di Diano. Gli ultimi in ordine di tempo si sono verificati in due istituti superiori. A Sant'Arsegno il sindaco Donato Pica ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza oggi e domani per tutte le classi dell'istituto di istruzione superiore Sacco, dopo la comunicazione di un caso di positività al covid-19 per un'alunna dell'istituto alberghiero. Durante la sospensione della frequenza, si specifica nell'ordinanza, sarà anche eseguita la sanificazione degli edifici prima del riavvio dell'attività scolastica. Situazione analoga a Sala Consilina, dove il sindaco Francesco Cavallone ha disposto la chiusura del plesso Itis ex gatta per le giornate di oggi e domani, al fine di consentire la sanificazione straordinaria delle aule e dei laboratori dell'istituto, provvedimento adottato dopo la comunicazione della positività al covid di un dipendente del plesso. A Sala Consilina, inoltre, si è in attesa dei risultati dei tamponi eseguiti nella giornata di ieri agli alunni in quarantena delle classi dei plessi di viscigliette e di cappuccini, afferenti all'istituto comprensivo e chiusi nei giorni scorsi dopo la comunicazione della positività di personale docente. A buon abitacolo, a seguito delle ultime comunicazioni dell'ASL, si attesta alla presenza di 24 casi positivi. Considerato che alcuni sono in età scolare, fanno sapere dal comune, si dispone l'interruzione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado da oggi e fino a sabato 6 marzo. Ad Atena Lucana prosegue lo screening sui bambini dopo i vari casi registrati nei giorni scorsi nelle scuole elementari e medie, subito chiuse per limitare i contagi. L'amministrazione comunale ha disposto anche la sospensione della didattica in presenza nella scuola dell'infanzia fino al 7 marzo. Dall'ultimo screening effettuato nel fine settimana sulle classi seconda elementare e seconda media, su 34 bambini ne sono risultati positivi 3. Complessivamente, ad Atena Lucana sali a 41 il numero delle persone positive, tutte stanno bene. Oggi è previsto lo screening alle alunne e agli alunni della quinta elementare.